Appena fatto molte reaction, cioè reaction scusate che non sono reaction, sono recensioni perché la reaction non la puoi fare a livello audio, la puoi fare solo a livello video perché comunque le faccine sono importanti, sai tutta sta roba qua, noi siamo podcaster cioè io sono un podcaster che è un po' diverso, senza snobbare nessuno, anzi ognuno fa il suo e lo fa col cuore, quello conta, anzi ognuno il suo, però ecco c'è differenza tra piattaforma e piattaforma io faccio diciamo recensioni e spesso e volentieri come in questo podcast più che recensioni do pareri perché onestamente recensire l'ennesima canzonetta non ho voglia raga, non ho voglia, cercate di capirmi l'uno e un quarto è una giornata abbastanza difficile, sono stanco, fa un caldo pazzesco voglio solo tornare sopra a casa e vedere Prison Break con mio fratello e invece sono qui e dopo aver parlato di varie canzoni, aver affrontato anche delle argomentazioni interessanti stasera ne ho fatti tanti di podcast, ne ho fatti sette però ecco dopo averne affrontate tante, dopo aver appena fatto Jamil Vengo dalla strada dopo aver fatto Fabri Fibra, insomma mi ritrovo a dover aspettare l'uscita della canzone Mamus Faire e basta, non dico che mi girano perché non c'ho la forza per farmi reggirare però ne devo parlare per forza, sì perché comunque è una canzone importante nel senso a livello commerciale quindi giustamente sì, ne devo parlare, però avessi il testo, mettere a leggere il testo così almeno c'ho qualche spunto, li prendi un po' in giro però devo dire a mia, sono stufo di queste canzoni scritte per... c'è un conto la hit estiva che già fa schifo di suo come abbiamo parlato di Biondo, almeno io guarda devo fare la hit estiva ne parlo, ti dico un po' com'è la dinamica per fare la hit estiva eccetera ma questa canzone qua, c'è Mahmood finito Sanremo c'è lanciato dalla Zuccar proprio, già provato a lanciare più volte lanciato dalla Zuccar, vince nonostante ai voti non aveva vinto quindi non ho capito perché ha vinto, nulla contro, meglio lui che altri con una canzone che prima della vittoria non aveva sfondato vince, diventa super milionaria Mahmood è super lanciato, questo personaggio marocchino, omosessuale con questa voce così un po' particolare, un prodotto perfetto ok, adesso è diventato uno che fa i featuring con certi personaggi per crescere ancora di più, solo featuring, solo alla Calypso lui è diventato uno che ha fatto solo Calypso che cos'è questa canzone qui? Calypso parte 200.000 con la differenza che a Calypso c'era appunto Fabri Fibra e anche Sfera certo, però insomma erano altri tempi mo basta, mo basta, Sfera è la classica entrata mezza spagnola, mezza italiano, guappa, guappa cioè siamo fighi, siamo belli, siamo freschi, sacco di soldi cioè raga, basta, basta, lo straniero neanche lo conosco non lo commento, sarà sicuramente qualche super rapper americano, spagnolo super famoso, stracolmo di seguito che non è che dici, era come una volta i rapper americani importanti erano un tot erano Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent e compagnia noi dicevi, cazzo, questi sono gli idoli mo sono tutti idoli, basta che sono minimo seguiti i ragazzini che non sanno manco chi è va lì super seguito, questo è un grande, questo è un idolo non sono idoli, sono ragazzi come tanti figli dello streaming, figli della me come direbbero gli arcade boys però, insomma, questa è una canzone che ci sta da dire, che vogliamo dire io non c'è niente da dire sono un po' stanco, ho detto la rimando a domani me la riascolto, cerco qualcosa di interessante da dire no, ma non c'è nulla da dire ragazzi, è una canzone che finirà in tendenza è un po' come Memanche però quella italiana senza napoletana tanto c'è il disco di Giollier non ho neanche il coraggio di ascoltarlo lui, grande talento, Giollier, insomma però, però insomma, raga ma che cazzo è questa, io l'ho sentita sì, musicale, suona, pomperà ma quante ne sono state fatte così quanti feat così ha fatto Sfera quella classica entrata, classica roba cioè, déjà vu io più ne recensisco più e raga, non ne faccio più le recensioni, va bene? mi fermo faccio un podcast ogni due tre giorni monologato show in cui dico, un po' parlo di attualità parlo di cose ma non ne faccio più le recensioni se è così, perché sto diventando noioso pure io per quanto annoiosa la musica so più che inventarmi cioè, sta canzone è veramente io vorrei dire tanto sono tutti artisti bravi validi conosciuti e che diamine però cioè, dopo il featuric con due pequeñi e mortali Sfera si doveva proprio riprendere in pieno quello che gli appartiene ovvero essere il re del nulla vabbè va bene così io non ho altro da aggiungere scusatemi se vi aspettavate qualcosa sul brano se vi aspettavate scusate se sono completamente off topic però io non ho niente da dire io abbandono lo studio è l'1.20 c'è mio fratello che mi aspetta sopra per vedere Prison Break che non lo vedo mai mio fratello piccolo che vive da mio padre io poso le cuffie abbandono lo studio che ha fatto tanti bei podcast oggi ma questo qui mi ha rovinato la serata basta con queste hit per forza basta Sfera hai rotto il cazzo Mahmood hai rotto il cazzo quell'altro Featuring Internazionali avete rotto il cazzo io lascio lo studio ci vediamo ai prossimi podcast tra qualche giorno